Con un testo semplice ma profondo, affascinante di Padre Pio, chissà come deve essere stato bello conoscere Padre Pio, poterlo frequentare, poterlo vivere, poterlo chiamare zio, cioè vivere proprio con lui, una realtà, una dinamica relazionale familiare. C'è una persona che da bambino l'ha conosciuto, lo ha vissuto molto da vicino, per lui non era Padre Pio, ma zio Pio, e infatti ancora lo chiama così. Vi presento il dottor Orazio Pennelli, benvenuto a Una Voce per Padre Pio 2016. Ciao Alessandro. Ci racconti Orazio un episodio della tua infanzia, un ricordo, una suggestione vicina a questo zio così speciale? Sì, ce ne stanno tanti ovviamente. Quello che è rimasto più impresso, io avevo 5 o 6 anni, è il 22 gennaio, giorno della sua vestizione sacerdotale, eravamo soliti fare delle rappresentazioni a sfondo religioso. e c'è stato un periodo in cui si portava, in queste rappresentazioni, si portava alla vita di un santo, San Giovanni Battista. San Giovanni Battista veniva interpretato da mio padre e io piccolino, ripeto, 5 o 6 anni, stavo vicino a zio Pio e a un certo punto durante questa rappresentazione ci fu la scena in cui ghigliottinavano San Giovanni Battista. Per amore di Dio è successo questo. Io così sono rimasto esterefatto e ho iniziato a piangere. Allora zio Pio mi ha preso e mi ha messo sulle sue ginocchia per confortarmi e per farmi capire, guarda che non è vero, papà è vivo. E la foto è quella lì? E la foto è quella lì. Quando lui mi stava consolando? Sì, mi stava consolando, dice stai tranquillo che non è così. Perché pensavi che anche tuo padre... Perché anche papà facesse la fine di San Giovanni Battista. E poi hai deciso di diventare medico, no? Sì, sì, sì. Ecco, cosa ti disse lui rispetto a questa tua intenzione? Io l'ultima volta che l'ho visto è stato il 15 settembre del 68. Lui è morto il 23 settembre del 68. Andai in coro da lui e mi fermai. Aveva un aspetto celestiale, mai visto perché l'avevo visto sempre molto sofferente e mi fermai a guardarlo. Lui non mi diede ascolto. A un certo punto mi girai e dico non voglio dar fastidio e lui mi chiamò. Guaglio, dove vai? Vieni qua. E io mi sono seduto con lui e dice che sei venuto a fare? E io gli dissi, beh, sono venuto perché devo decidere cosa fare. avevo finito gli esami di Stato in maturità classica e mi disse, tu che vuoi fare in dialetto? Beh, e dico, io vorrei fare medicina, veramente. E lui mi rispose, ma la capa latina? La capa latina? La capa latina. E quindi tu dicesse sì. E quindi dico sì, 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 cerco di andare, però tanto so che devi studiare tu e non io. Ah, e va bene, e va bene, perché servirai alla mia opera. Ecco, poi Orazio Pennelli è stato direttore sanitario di Casa Sollievo della Sofferenza soltanto 40 anni. No, ma un poco meno. E mi fai così vecchio tu. Vabbè, ma si vede pure, non è che... No, no. No, nel senso... Io non mi trucco come te. Senti, Orazio, ma cosa diceva, cosa sentiva lui di Pietrelcina? Pietrelcina, beh, lui, io ho visto, ho letto tutto il suo epistolario, nella corrispondenza con il fratello Michele che stava qui. Lui raccomandava sempre al fratello di pregare e stare vicino ai genitori, quando erano vivi ancora, e piuccia, piuccia, piuccia. E poi, come diceva prima Michele Placido, Pietrelcina che stava nel cuore suo. E' tutto pieno il cuore mio per Pietrelcina. Fammi vedere questo oggetto. Che vuoi vedere? Anche per gli amici a casa. Guarda, non è solo a me, abbiamo qualche milione di telespettatori che sono su Rai 1. Sì, questa era la sua tabacchiera. Lui aveva problemi respiratori e ogni tanto pizzicava un po' di tabacco per mettersi nel naso, per respirare un pochettino meglio. E quando voleva qualcuno... Grazie per questa testimonianza intima, familiare, da parte del dottor Orazio Pennelli. Grazie. Ciao. E ora... Grazie. 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 Grazie.